Giorni difficili per il trasporto in Italia, prezzo della benzina alle stelle e rinnovi di contratto in vista. A pesare sulla situazione è anche la crisi in Ucraina e le sanzioni dell'Europa su Mosca, che peserebbero soprattutto sulle imprese di settore italiane. Ho incontrato alcuni rappresentanti, c'è il tema dell'autotrasporto, dei camion, dei tir, degli scioperi, rischiamo di avere i negozi vuoti. Come Lega stiamo lavorando per un intervento di governo a supporto del settore dell'autotrasporto. Il venerdì in nero è infatti quello del 25 febbraio e coinvolge tutta Italia. Treni e autobus sono pronti a fermarsi per 24 ore, così come l'autotrasporto in crisi già dalle scorse ore contro i prezzi raggiunti dal carburante. Un tavolo sui trasporti si è tenuto da remoto con il vice ministro dei trasporti, Teresa Bellanova, pronta ad intervenire con misure ad hoc per arginare la crisi. La cabina di regia potrebbe già tenersi nelle prossime ore. A rincarare la dose poi, lunedì, saranno proprio i benzinai a chiudere i distributori di carburante, annunciando che non assicureranno la possibilità di fare rifornimento nelle autostrade italiane.